Zainabella Revisore per la misura Un altro motivo per cui non facevi il militare, era se avevi dei problemi di costituzione fisica Infatti si faceva proprio una visita che si chiamava la visita dei tre giorni si faceva al distretto militare e c'erano degli esami molto temuti ma il più temuto era quello del controllo dell'ernia il controllo dell'ernia te lo facevano insomma con il soppesamento dei testi insomma te lo facevano con le mani che succedeva? che sei putacaso mentre ti facevano il controllo dell'ernia a te dopo un po' che te lo facevano ti cominciava a piacere per carità il militare non lo facevi però poi neanche a casa da tuo nonno ci potevo tornare io ricordo che memore dei suoi insegnamenti che dicevano sempre chi non è buono per i re non è buono neanche per la regina io mi presentai al distretto militare pancia in dentro e petti in fuori e ho proprio spalancato la porta della sala visite e c'erano tre dottori di una schivania sembrava un po' la schivania di X Factor e al centro c'era quello del controllo dell'ernia lo riconoscevi subito da lontano perché stava così avanti un altro che uno pensa? pensa che vita che ha fatto 35 anni così avanti un altro la sera quando tornava dalla moglie come è andato oggi al lavoro tesoro? eh due palle dice solo due e che hai fatto? mezza giornata tesoro mio ora il fatto era questo che io poi fui considerato abile arruolato e ricordo che partì sì partì proprio per fare il militare perché ai tempi nostri il militare era un po' bizzarro erano dei sadici quelli che organizzavano il servizio militare perché fai conto che papà tuo sia l'Italia no? allora papà è l'Italia questo è Roma l'ombelico del mondo se tu eri dal diciamo del centro sud il militare ti mandavano a fare a Pordenone qua su se invece eri del centro nord lo facevano fare a Magomer in Sardegna cioè erano dei sadici e infatti io partì partì fiero per fare il servizio militare a Pordenone con migliaia di ragazzi come me migliaia di ragazzi che sono partiti per fare il soldato a Pordenone migliaia di soldati tutti a Pordenone ma c'erano pure gli asafregavano Pordenone che il problema di Pordenone qual'era? è che è molto distante da Roma quindi alla fine un ragazzo che faceva il servizio di leva a Pordenone se voleva tornare a casa in licenza erano 750 chilometri quindi era impossibile tornare a casa io ricordo infatti che alla fine quando c'avevi una licenza non potevi tornare a casa e te ne stavi là a Pordenone che per carità insomma Pordenone io mi rimpiangevo fiumicino negli anni 70 in quegli anni veramente non sto scherzando io proprio ricordo che Pordenone però è molto carina una città ridente in cui c'erano proprio le strade fatte a forma di via proprio con la strada con la via le case con le finestre con le persone dentro veramente con le persone dentro come le altre città c'era proprio la piazza centrale con la fontana la fontana di Pordenone che chiaramente era ghiacciata da ottobre a marzo infatti c'erano i pesci rossi c'era proprio il baccalà dentro la fontana di Pordenone mi ricordo invece il mancimi i ceci gli buttavano sì il mio capitano era Capitan Findus quello del reggimento mio perché poi con sti baccalaccio i pastoncini e quando sono tornato a casa erano sei mesi che mia mamma non mi vedeva sei mesi che mancavo mi ha accolto il giorno del congetto come un reduce della campagna di Russia proprio mia madre è venuta da me e mi ha fatto oddio bello di mamma ma almeno ti hanno fatto mangiare e mamma sì oddio e mio padre invece mi ha detto eh ti trovo bene se vede che al militare ti hanno raddrizzato la schiena le versioni completamente opposte cioè per mia mamma mi ero fatto un anno ad Alcatraz per mio padre ero stato una settimana appositano quando invece la realtà era nel mezzo ero stato al massimo apposita Alcatraz ma tu sei fortunato amore mio perché il militare non lo farai mai perché al militare non mi hanno insegnato nulla cosa ho imparato in un anno di militare ho imparato giusto a rifarmi a Branda ma allora era meglio che avessi fatto un anno d'alberghiero e quando dicevo così mio padre si infuriava diceva si vede che il militare non è più come ai tempi miei ma perché scusa ai tempi due ma com'era sto militare e che ne so io mica ho fatto ero figlio unico di madre Veto va